Ladies and gentlemen, madame and messieurs, bonsoir! Benvenuti alle Grand Moyahool di Francesca Maggiore per questa presentazione di abiti inediti che sicuramente riscuoteranno un grande successo soprattutto per la loro bellezza e per il grande fascino. L'organizzazione può contare su modelle e su indossatrici di primissimo piano quali Carla Salomon, Morgana Moonstone, Arianna 1986 e a Shasha D'Inzeo. A seguire Morgana Moonstone la quale ha cercato di incarnare nelle splendide modelle molto flussuale può offrire quella giusta attenzione solamente i grandi vestiti possono offrire e in questo caso la Grand Maison di Francesca Maggiore accolto nel segno con un abito molto elegante ma nel contempo molto pratico appariscente all'occorrenza indubbiamente molto attraente ed ora la femminilità viene risaltata questo è un abito delle spiccate linee femminili solamente dove i grandi miscele tra lane assolutamente finissime cashmere extra white lini dei più fini per saggiarne, per coglierne al meglio l'eleganza assoluta e non dimentichiamoci che tutte queste sfilate, queste bellezze sono qui al Patrick sono date grazie a Patrick Moia owner di questa splendida sim Moia Hall la sensualità sono alla base di questo delineate da colori assolutamente pastellati ad esempio questo splendido verde che richiama lo smeraldo di intrecci, di texture davvero unici in questo abito si può vedere la morbidezza dei tessuti l'antica via della seta riaperta grazie alla quale quasi africani dove l'energia selvaggia incarna questi abiti uno spacco si uniscono come ricordati per questo abito dalle linee lussureggianti molto ricche di fascino le combinazioni le lane unite alle cannepe di un tempo io volevo fare un ringraziamento particolare a Patrick Moia per averci messo a disposizione questa bellissima terra per averla allestito in modo così bello per la sfilata ringrazio il direttore artistico Francesca Carian che ha reso possibile tutto questo grazie a GPX Winkler che ha presentato in modo stupendo le bellissime modelle e ha creato un'artumice meravigliosa a questa sfilata e grazie soprattutto alle indossatrici Carla Salomon Morgana Morston Arianna 1986 e a Sasha D'Infeo hanno interpretato gli abiti in modo meraviglioso e con la loro bellezza professionalità ed eleganza grazie di cuore a tutti per essere stati qui stasera grazie a tutti grazie a tutti oh you got it you got it mi fai male mi fai male vuoi godere se mi vedi in un angolo d'ore d'ore e un repiede